Polifemo intende valorizzare quelle iniziative che attengono alla religiosità popolare. Siamo infatti a Talsano insieme ad una processione che si sta snodando per il centro storico della borgata Tarantina, una processione che si ripete dal 1982 per ringraziare il Signore e Maria Vergine per lo scampato pericolo cui fu sottoposto Giovanni Paolo II in occasione dell'attentato. Evidentemente una mano divina fermò la mano di Alia Cha. Una manifestazione, una processione che vede partecipare la comunità talsanese in toto, l'amministrazione comunale e le amministrazioni di altri comuni. Massimiliano Stellato, consigliere comunale di Taranto, in rappresentanza del sindaco dell'amministrazione comunale con la fascia tricolore. Un momento di profonda religiosità. Sì, quando una parrocchia, quella di Talsano, riesce a coniugare il senso di comunità, a conferire nuovi valori, nuove identità e riesce a mettere a rete il sistema i principi religiosi con quelli istituzionali e con le tradizioni storiche e culturali, l'amministrazione comunale ha voluto far sentire la sua presenza.